E' un teatro marucino vestito a festa, quello che ha accolto la presentazione della nuova stagione della città di Chieti, società dilettantistica che oltre alla parte sportiva ambisce ad essere progetto che guarda il futuro dei giovani. Alla Kermess presenti tanti ragazzi, genitori, amministratori comunali e sua eccellenza Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chietivasto. Nel corso della presentazione è stato proiettato un video molto suggestivo dal titolo La Felicità, Felicità a cui tutti noi abbiamo diritto, a patto di volerla cercare. Sulla manifestazione sentiamo il presidente della società città di Chieti, Fabio Lavalle. Presidente Fabio Lavalle, insomma questa sera c'è questa presentazione, abbiamo visto il teatro pieno di gioventù soprattutto di ragazzi molto giovani. Voi siete impegnati, impegnatissimi su più fronti, quali? Allora grazie innanzitutto di questo traguardo di andare anche su Rete 8 per farci conoscere e ringraziamento va anche al dottor Cristian Poglio che è stato lui il fotore e ci segue da sempre oltre ad avere il figlio con noi. Quindi un grazie a te Paolo, all'emittente Rete 8 e al dottor Cristian Poglio. Siamo impegnatissimi, oggi diciamo che per rimanere in tema di teatro andiamo in scena e quindi abbiamo un'attività che conta quasi 500 tesserati tra dirigenti, atleti, ragazzini. Facciamo scuola calcio a 11 a 5, siamo anche riconosciuti come scuola calcio d'élite che è il massimo riconoscimento che la FIGC nazionale dà di settore giovanile. Abbiamo il settore giovanile tutta la filiera under 15, 17 e 19 di calcio a 5 dove facciamo anche under 19 nazionale. Abbiamo la filiera under 15, under 17 e calcio a 11 e poi abbiamo le prime squadre che abbiamo la seconda categoria di calcio a 11 e quest'anno riassaporiamo un campionato nazionale con il calcio a 5 e rifaremo un campionato di serie B nazionale con il calcio a 5. Quindi tanta attività per questi giovani e per questi ragazzi e poi avete un'importante collaborazione da sottolineare con il chiti calcio. Sì, già negli anni passati abbiamo collaborato però quest'anno in maniera proprio ufficiale grazie all'intento del presidente Serra, del direttore Sartriano e del direttore Gaetano Alessandria quest'estate abbiamo stipulato questo accordo di collaborazione sul settore giovanile e infatti quest'anno una nostra selezione under 15 disputerà il campionato provinciale under 15 con il nome Chieti oltre ad avere anche l'under 15 come città di Chieti. Quindi si inizia questa trafila con il Chieti e speriamo che sia fioriera di successi e di brillanti affermazioni.